Assessore Paolucci, il 28 ottobre a Lanciano sarà simulato un disastro ferroviario, una maxi emergenza extra ospedaliera per testare come funziona il sistema. Che cosa accadrà? Intanto noi abbiamo approvato nel corso del 2018 il piano delle maxi emergenze rispettando una normativa nazionale. Abbiamo prima individuato nel dottor Albani la figura che coordinasse questo piano della maxi emergenza e abbiamo presentandolo precisato che riguarda tanti aspetti una maxi emergenza. In questo caso è la prima prova, la prima esercitazione che noi metteremo in campo simulando un disastro ferroviario e ovviamente per quanto riguarda gli aspetti del coordinamento dell'emergenza, in particolar modo sanitaria, le modalità non soltanto di organizzazione per quanto riguarda ciò che c'è in questo caso di grave emergenza da organizzare ma anche di formazione del personale addetto alle maxi emergenze. Voglio solo dire in coda che questo piano è un piano molto importante per la nostra regione perché non devo purtroppo rammentare o ricordare io di quanti episodi legati dal maltempo ad altri eventi questa regione in qualche modo è colpita. Quindi è importante formare soprattutto il personale rispetto a quelli che sono anche i fatti di cronaca che abbiamo alle spalle.